Prosegue le botte e risposte tra i responsabili dell'Istituto Autonomo Case Popolari e il consigliere comunale di Officina Politica Nissena, Gianluca Bruzzaniti, che nei giorni scorsi ha denunciato ai nostri microfoni lo stato di incuria di Via Fasci Siciliani, dove è stata segnalata la presenza di un cantiere abbandonato. Il consigliere carta alla mano, ovvero mostrandoci la diffida del comune, ha replicato al dirigente dell'area tecnico patrimoniale dell'Istituto Case Popolari, Antonio Mameli, ribadendo che l'area è di loro pertinenza. Non sono io che lo dico, ma sono gli uffici del comune. C'è una diffida a firma dell'ingegnere Bonzango e del vice sindaco Margherita, che appunto diffidano il giorno 14 luglio, è stata inviata, che diffidano l'OIACP a intervenire su quell'area. Mi fa specie aver sentito toni sicuramente non pacati da parte del dirigente Mameli, che dice che addirittura un consigliere comunale, il sottoscritto parli a sproposito per quanto riguarda questa problematica, quando invece probabilmente un dirigente dell'OIACP dovrebbe avere forse meglio chiara la situazione in questione. Perché io non mi riferivo all'intervento sul palazzo, quindi legato al prospetto, bensì alla strada, la strada limitrofa al palazzo, che non riguarda 14 famiglie, ma ne blocca ben 42. Quindi ha detto una cosa assolutamente non vera. Non è vero neanche che l'area non sia di competenza dell'OIACP, in quanto in quell'area proprio l'OIACP ha detto che per problemi comunque di sicurezza ha limitato l'accesso a quell'area. Quindi la verità vera è che probabilmente, magari il dirigente Mameli non lo sa, l'OIACP non vorrebbe assumersi le proprie responsabilità. Ritengo inoltre che si debba assolutamente parlare di cantiere abbandonato perché quell'area comunque non vede interventi e non vede una manutenzione ormai da mesi. E essendo un cantiere chiaramente il comune non può far accedere la ditta per effettuare la pulizia perché il responsabile del cantiere è l'OIACP. Inoltre per quanto riguarda la vicenda legata al condominio, il dottor Mameli dice che si tratta di un condominio in cui solamente 5 appartamenti sono dell'OIACP. Quindi ribadisco che io parlo della strada, abbiamo discusso della strada, quindi probabilmente farebbe bene il dottore Mameli a informarsi prima meglio delle problematiche, comprenderle e solo successivamente probabilmente accusare altri di parlare a proposito quanto probabilmente è lo stesso che lo sta facendo.